Ciao a tutti, sono Martina della Samovar Viaggi e oggi vi presento Zoe, il nuovo membro dell'equipaggio MSC Crociere e la prima assistente virtuale su una nave da crociera. Zoe è in grado di rispondere a qualsiasi domanda sulla nostra crociera, dall'intrattenimento a bordo, alla prenotazione di un ristorante tematico oppure di un'escursione. Si attiva semplicemente dicendo, ok Zoe, proviamo insieme, ok Zoe, dove posso pranzare oggi? Avete tre scelte, potete mangiare gratuitamente nel vostro ristorante o presso il Marketplace Buffet, oppure potete provare uno dei nostri ristoranti tematici. Quale di queste opzioni volete esplorare? Ristorante tematico Si prega di rivolgersi al responsabile del ristorante al numero 6117. Il numero di telefono è elencato anche nel programma del giorno. Si desidera prenotare un tavolo in un ristorante tematico? Sì È possibile prenotare un tavolo tramite i canali MSC4ME o contattare la responsabile ristoranti tematici al numero 6117. Inoltre si può prenotare un tavolo nei nostri ristoranti tematici sul televisore in cabina tramite MSC4ME. Posso accendere il televisore della cabina adesso? Sì Sto accendendo la cabina TV. Per favore seleziona il tuo profilo attraverso il telecomando. Ecco qua, Zoe ci va a vedere i ristoranti tematici. Seleziono il primo, per esempio. Qui possiamo leggere il menu. Con i relativi prezzi. Poi faccio clic su indietro. E vado su prenota. Posso scegliere il giorno, per esempio sabato 3, va bene. L'orario. 19.30 E per quali ospiti? Martina Prenota A questo punto ho prenotato il ristorante tematico. Non inserito. Ricorda C'è un reso attenzione. Ciò che puoi con la traduzione. Questa è la notizazione. Questa è la notizazione. Questa è l'estate. Questa è la notizazione. Grazie a tutti